Allora qui siamo di fronte a un caso che fa venire i brividi perché questa donna denuncia ad agosto c'è il battaglio elettronico, quest'uomo viene allontanato, i figli fanno scudo ma nulla è servito a salvarle la vita. Lo sai che io sostengo da sempre che quando c'è questa tipologia di maltrattante quindi con una personalità particolarmente pervicace in queste condotte maltrattanti questa reiterazione, l'unica soluzione cautelare realmente efficace è il carcere. Vogliamo continuare ad applicare questo tipo di misure più blande? Questi sono i rischi del mestiere, questo tipo di soggetti non li fermi, non li ferma un braccialetto elettronico non è la prima volta che raccontiamo un epilogo tragico nonostante l'applicazione del braccialetto elettronico sono strumenti e come tali possono anche essere soggetti a disservizi, anche apparentemente casuali e difficilmente gestibili, non possiamo mettere la vita delle donne davanti a soggetti non tutti i maltrattanti sono così, per amor del cielo, ma la valutazione va fatta preliminarmente in base alla personalità del soggetto, bisogna stabilire se quel tipo di misura può realisticamente contenerlo Roberta, ma adesso io però non posso non pensare a questi due fratellini 12 e 13 anni che hanno provato a salvare la mamma, ma come possono andare avanti anche con lo scrupolo di tutto quello che stiamo raccontando? Ma non solo, qualcuno si prenderà cura di loro, perché di fatto questo padre, insomma, ci auguriamo che non lo rivedano mai più e che ci pensino i giudici in tal prospettiva, ma adesso chi si prende cura di loro? Chi pagherà il percorso terapeutico e riabilitativo per cercare di tornare a una vita decorosa un minimo? Perché questi hanno subito una mutilazione psichica spaventosa Roberta Bruzzone, abbiamo messo in fila tutto ciò che non torna ai punti oscuri, cosa risalta la tua attenzione? Beh, guarda, io ho seguito con grande attenzione la conferenza stampa del procuratore capo e devo dire che un passaggio che lui ha riferito mi ha colpito notevolmente ma più che altro per dare anche una cormice a questa vicenda così angosciante a un certo punto salta fuori il suo ragazzino, insomma, il suo bimbo morto nel giardino perché la nonna sostanzialmente scopre... Il cane, pensate, la nonna che rimane lì Il macabro ritrovamento Perché è andata a casa per badare evidentemente l'abitazione durante questo viaggio vacanza che loro fanno di lì a poi, cioè due giorni dopo sostanzialmente il parto loro partono con Chiara alla volta degli Stati Uniti Ebbene, vengono messi al corrente ovviamente del macabro ritrovamento in giardino del corpo di un bambino neonato che penso che sia una circostanza che ciascuno di noi, penso anche i nostri amici a casa che ci seguono avrebbero ritenuto una circostanza rilevante al punto da interrompere la vacanza E questo però non avviene Cioè la famiglia, resa, messa a conoscenza di questa situazione veramente sconcertante, sconvolgente non interrompe la vacanza e non mette neanche in correlazione Questo è un altro passaggio interessante Esatto L'emoragia, che comunque il flusso abbondante Duplice, duplice No, ma non solo, lei due giorni prima, cioè il padre dopo il parto va giù, trova tracce abbondanti ematiche al punto che sono sporcati dei tappeti, dei lenzuoli, degli asciugamani quindi la ragazza parla di flusso abbondante Ma anche lì nessuno fa una verifica La madre pensa a lavare tutto ma questa ragazza non viene portata banalmente dal medico anche di famiglia per dire ma come mai? Come mai? Dobbiamo partire Era la seconda volta che accadeva perché l'ha già accaduto un anno prima Esatto, uno più uno fa due Lì no, questo uno più uno non viene fatto Ecco, questo è un passaggio che per certi versi insomma io credo possa aiutarci un po' a comprendere che tipo di famiglia era cioè evidentemente non c'è più cieco di chi non vuol guardare Comincia Roberta Bruzzone, grazie Lucilla Però io sono convinta che i genitori non sapessero nulla Attenzione, faccio delle valutazioni sulla base di quello che dice il procuratore però io sono convinta che i genitori di tutto questo orrore non fossero a conoscenza Esatto, Roberta Bruzzone perché apparentemente un dettaglio assume rilevanza perché questa movimentazione che cosa racconta? È chiaro che chi ha preso l'ascensore almeno uno non può non aver visto il cadavere di Pellina Eh no, cioè se è passato da lì cioè l'ascensore è in un vano c'è una porta a tagliafuoco c'è un altro vano dove era la salma c'è un'altra porta a tagliafuoco che separa quell'ambiente lì dai garage Quindi se qualcuno è salito da lì vuol dire che è passato necessariamente dalla porta a tagliafuoco davanti al cadavere Non risulta passaggio di auto È un dato che noi abbiamo effettivamente esaminato per quanto riguarda l'esame mettendo in evidenza la sit del vicino di casa che dice sì, io sono rientrato a quell'ora ma sono sicuro di non aver preso l'ascensore e allora c'è qualcun altro che si muove nel palazzo in quel frangente e poi c'è il problema, come giustamente ha messo in evidenza Valerio Scarponi del passaggio precedente Certo Perché se alle 22.15 effettivamente qualcuno è passato da lì ed è, insomma, realisticamente l'assassino perché anche lì non c'è passaggio esterno, diciamo, di auto, vettura, di altri mezzi e allora a quel punto come fa il famoso Luis da Silva a fare tutto il percorso ipotizzato dalla procura e a passare alle 22.17 sotto la Camp 3 C'è un bel problema, eh Potrebbe esserci dunque un complice a questo punto, Avvocato Assumma? Ma tecnicamente potrebbe anche esserci poi c'è un disallineamento sicuramente degli orari, come diceva Roberta e quindi orari barra percorso ma c'è un forte disallineamento di quasi due ore rispetto al secondo transito dell'ascensore Allora, l'ascensore ogni quarto d'ora, se non sbaglio, Valerio tu hai fatto queste verifiche molto recentemente noi l'abbiamo fatto già quest'estate ma se non ricordo male, ogni quarto d'ora di inerzia sostanzialmente scende a meno uno come posizione, diciamo, di mancata attività però tutte le attività che invece sono in salita Quando è inattivo sì È chiaro, quando è inattivo sì Ma le dita di salita sono per forza dovute a qualcuno che lo attiva l'ascensore Roberta Bruzzone, questa mamma, questa moglie smette di prendere i farmaci, interrompe la cura c'è una pistola in casa non dichiarata ma ereditata dal padre insomma, abbastanza incredibile tutto È abbastanza incredibile ma purtroppo altrettanto realistico qui c'è un quadro depressivo, molto probabilmente la signora ha cominciato a non aderire alla terapia correttamente dopodiché è subentrato un aggravamento della sua condizione come spesso può accadere in questi casi una dimensione che va verso la parte psicotica della depressione magari si è convinta che l'unico modo per sottrarre se stesse e suo figlio da un destino ineludibile di sofferenza fosse quello di morire sostanzialmente insieme e questo ha portato a questo omicidio o suicidio che in molti casi, soprattutto di questo tipo può essere considerato una sorta di suicidio allargato cioè porto via con me per sottrarlo a una sofferenza inevitabile anche la persona che amo di più al mondo in un soggetto gravemente depresso non trattato, diciamo non aderente a un piano terapeutico adeguato questo è uno scenario che può verificarsi è un piano terapeutico adeguato è un piano terapeutico adeguato è un piano terapeutico adeguato